Quella di Palermo è un'area fuori legge. Questa è la denuncia di Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi, che punta il dito contro il governatore Rosario Crocetta, colpevole a suo dire di non aver operato le giuste misure per salvaguardare la qualità dell'aria. Noi oggi annunciamo che presenteremo un esposto all'autorità giudiziaria, un esposto all'Unione Europea. Di che cosa si tratta? In una regione Sicilia manca il piano di visionamento dell'aria. Non c'è una rete di monitoraggio conforme alla legge nazionale e quindi significa che alcuni inquinanti dannosissimi per la salute e cancerogini non è dato sapere qual è il livello e quindi qual è il livello di aggressione alle popolazioni. Se pensiamo che esistono tre aree da bonificare importanti come i sinne di Priolo, Gela e Milazzo, con persone a cui il livello di malattie è elevato, pensiamo a Priolo, dove le malformazioni neonatali sono altissime, c'è una gravissima responsabilità da parte della regione Sicilia che va applicata la legge. Il presidente della regione Sicilia deve applicare la legge, deve fare il piano di risanamento dell'aria, deve fare una rete di monitoraggio che monitori tutti gli inquinanti, i benzene, le diossine, gli idrocarburi policiclici aromatici che fanno male alla gente. I cittadini siciliani hanno il diritto di sapere che cosa respirano, che cosa mangiano, perché si ammalano. Grazie a tutti.